Assurdo e incredibile, io sono cotto, ho un mal di testa, assurdo e incredibile, l'umana Reier Venezia da ottava riesce a portarsi a casa la Coppa Italia, riesce a portarsi a casa la Coppa Italia di palla a canestro. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo messo video, siamo qui per parlare proprio di questa partita che si è appena conclusa, finale di Coppa Italia Final 8, 21esima edizione di questa Coppa Italia con la formula della Final 8, da ottava sono riuscite a vincere i campioni d'Italia, veramente sono una zampata questa squadra perché riescono nonostante la stagione non stia andando bellissimo in campionato, nelle partite che contano a farsi vedere davvero in maniera eccezionale, punteggio basso 73 a 67 però difesa di Venezia davvero da mille e una notte, sono riusciti ad arginare quello che secondo me è il faro di questa Coppa Italia, quello che meriterebbe la MVP dell'intero torneo, ovviamente non della finale perché la sua squadra non ha vinto, però parliamo di Adrian Banks che è stato arginato e che comunque i suoi 27 punti è riuscito a mettergli la referto e questo è mancato a Brindisi, sono mancati tutti gli altri, ricordo Zanelli 7 punti, 7 di valutazione, Gaspardo 8 con 6 di valutazione, ma per il resto, per il resto diciamo Brown non ha colpito, Martin che era diventato un giocatore formidabile contro Sassari, qua non si è visto, ha fatto qualche punto, Son, Talerson, Talerson ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in questa partita, ha fatto 0 punti, meno 3 di valutazione, lasciamo perdere veramente, segniamo velo pietoso. Parliamo ora invece delle note positive di Venezia, oltre a un gran allenatore, che De Raffaelson è veramente un allenatore davvero importante, che nei momenti importanti c'è sempre, poi Mitchell Watt, Mitchell Watt ha fatto 17 punti, 10 anni di valutazione per lui, davvero incredibile, Bramos, Austin Day, ecco Austin Day ha fatto le triple decisive, però è stata una partita ricca di errori, perché a Brindisi che cosa ha fregato Brindisi? L'ha poca attitudine a tirare bene i tiri liberi, hanno avuto una percentuale abnormemente brutta sui tiri liberi, e anche sui tiri da 3, e oggi Day veramente ha sbagliato troppi tiri da 3, altrimenti secondo me la squadra di De Raffaele l'avrebbe chiusa molto prima questa partita, molto molto prima, con un parziale di 18-8 subito al primo quarto che poteva tagliare le gambe agli uomini di Vitucci, che però sono riusciti a riprendere la partita con un parziale di 16-22 al secondo periodo, riuscendo ad arrivare quindi soltanto col meno 4 all'intervallo lungo. Poi c'è stata una piccola accelerata da parte di Brindisi, di Venezia, 16-13 parziale l'ultimo del terzo periodo, e poi sul quarto periodo diciamo che hanno fatto punto a punto, anche se ci sono stati dei parziali dall'una e dall'altra parte, però comunque è andata così. Per me Venezia comunque merita la vittoria perché Brindisi non può ancorarsi soltanto sui derambanks, i giocatori infatti, gli altri dovevano impegnarsi di più, dovevano soprattutto nei momenti decisivi, nei tiri liberi, dovevano dare il meglio di loro, invece hanno fatto degli errori davvero banali. Io ragazzi ho terminato questo video, se vi sia piaciuto like, mi piace, commenta iscrizione, e non vi preoccupate che il basket, nonostante la Coppa Italia sia terminata, non mancherà su Molina Sport Channel, noi ci vediamo nel prossimo video, bye bye, ciao!